Bruno ancora un obiettivo centrato da questa lube la final four di coppa italia non era così scontato contro monza che vi ha reso la vita difficile si guarda nella palavolo dello sport in generale non c'è niente di scontato mai per questo importante festeggiare questa questa semifinale questo pass per la final four a bologna da domani pensare a trento perché abbiamo visto che un 2019 bellissimo dopo una prima sconfitta qua 3 a 2 che eravamo avanti il tie break sembravamo già che siamo crollati che la squadra è vecchia tutto torna per questo dobbiamo godersi anche le vittorie saper equilibrare bene nelle sconfitte anche di capire che può succedere no però dobbiamo migliorare sicuramente questo inizio di stagione di anno abbiamo perso un po di continuità secondo me nel nostro gioco però l'importante era arrivare a questa final four si dice che sia insaziabili per migliorare quello che avete fatto nel 2019 ci vuole anche la coppa italia sicuramente è un obiettivo che abbiamo già parlato dentro lo spogliatoio che che vogliamo tanto che l'anno scorso c'è sfuggita alla fine per questo noi ci teniamo tanto andiamo a bologna questo momento adesso domani pensare già alla champions perché è un altro grosso obiettivo per noi non temete di essere i vecchietti del campionato sì è quello che ci danno però l'importante è avere la fame dentro di continuare a vincere questa è la cosa più importante noi vogliamo tanto ora trento ora trento abbiamo bisogno neanche di fare presentazione di questa grande squadra una possibile vittoria nostra da tre punti ci mette in una situazione molto buona per per passare per passare turno per questo una partita molto importante per noi come dice sempre fefe importante pensare anche il nostro gioco avere più continuità perché questa è una cosa che che ci sta mancando un po ciao